Grande successo per le giornate nazionali delle guide ambientali escursionistiche che si sono tenute lo scorso weekend in tutta Italia. Tante le iscrizioni per le diverse escursioni che hanno visto partecipare molti turisti, soprattutto tedeschi, austriaci, svizzeri e francesi. Ben 120 luoghi protagonisti quest'anno delle giornate che in tre anni hanno totalizzato 430 eventi in borghi, parchi e ambienti naturali su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è stato promuovere il territorio italiano col suo immenso patrimonio ambientale, naturalistico, storico e geologico, anche per far comprendere l'importanza del lavoro delle guide ambientali e la loro figura professionale.